Il proseguo della settimana vedrà ancora condizioni di tempo instabile, a seguito dell'azione del vortice di bassa pressione, in movimento dall'area tirrenica meridionale verso sud-est. Traducendo ciò in una previsione, vedremo come martedì 2 maggio, il centro-sud e le isole maggiori avranno ancora condizioni perturbate, con nuvolosità irregolare e qualche precipitazione che potrà assumere anche carattere di temporale. Al nord-ovest invece, le condizioni meteorologiche tenderanno verso un miglioramento, anche se non mancherà la possibilità di qualche locale fenomeno lungo i settori prealpini.Condizioni più stabili che si estenderanno poi nella giornata di mercoledì 3 maggio al resto del nord Italia. Mentre il centro-sud, Sicilia compresa, vedrà ancora la possibilità di qualche pioggia. Su queste aree si dovrà infatti attendere la giornata di giovedì 4 maggio, per avere un miglioramento del tempo ed un rinforzo dell'alta pressione. Stando alle ultime emissioni modellistiche, la tendenza per il prossimo weekend, il primo di questo avvio di maggio, dovrebbe risultare generalmente stabile, se non disturbato da qualche coda di perturbazioni che lambiranno il nord Italia. Per i dettagli vedremo meglio nel prossimo aggiornamento.